Siamo con Eradis, Eradis è abituata a presentare il Festival Latinoamericano, è un grande personaggio e Antonio è un po' il tuo stilista. Eh sì, quest'anno diciamo che ho deciso, abbiamo deciso insieme che Antonio sia l'estilista che mi vestirà per questa terza edizione del Festival Latinoamericano ad Assago che invitiamo a tutti a giugno fino ad agosto. Bellissimo, senti noi facciamo una trasmissione che va in nazionale, non sono canali grandi però copre tutto il territorio nazionale. Ci farebbe piacere, Antonio l'abbiamo già invitato e verrà presto, se vieni anche tu magari ci porti un po' del colore latino che a noi piace tantissimo. Per me sarebbe un piacere perché rappresentare la cultura latina è quello che facciamo in Italia e sai che anche oltre a presentare faccio anche l'attrice a livello professionista. Ho fatto anche prima la ballerina, ho fatto anche tanti film importanti in Italia e niente, per me è solo un onore essere anche con voi nella vostra trasmissione. Siamo qua sicuramente per appoggiare il nostro stilista Oliver come stilista latinoamericano nel mondo e soprattutto in questa settimana, settimana della moda, dove si esalta le stile in generale. Niente, Latinoamerica deve essere anche presente mediante lui. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, dopo mi dirai come contattarti e ci vediamo prestissimo. A prestissimo, grazie a voi.